buonasera a tutti so che è tardi per fare un video però la mattina ho avuto tutta la giornata ho potuto fare ancora devo pulire bene la cucina quindi allora la novità sono due ci hanno cambiato internet perché è la vecchia operatore purtroppo ha chiuso ha chiuso per motivi loro motivi di fuori e ci hanno attivata un'offerta che non è pubblicità però è la vota monna io adesso poi vi farò sapere come andrà perché è appena stata messa quindi non so non mi trovo cioè in pratica voglio aspettare un qualche giorno per farvi la riflessione di questa cosa la sconda la sconda sembrerà strano che domani pioverà gemmino sta camminando con diambolatore poi oggi è mercoledì 17 maggio e sono le sono le 9 della sera vado subito ad farvi vedere i prodotti che ho comprato le offerte che ho comprato e questo non è un video promozionale ma e mi piacerebbe mi piaceva farvi vedere i prodotti che io prezzo dell'azienda tutto qui nulla di spettacolare come ho fatto come ho fatto i prodotti finiti adesso vi faccio vedere i prodotti pieni che ho preso io per me e sono tre scusa amore guardate qua ciao per la prima volta lo vedete in piedi si cammino con diambolatore comunque prima offerta prima offerta la borsa la borsa la borsa la bag con super piatti che scrasta pulisce bene i piatti mi piace a non posso dire pari merito con lo sverso perché questo non lascia non fa schiuma però è buonissimo ragazzi è buonissimo lo riscrive ha valutato poi la spugnetta questa a due facce quella ruvera e quella liscia senta come lo spiego questa poi ultracolor me lo vedete spesso nei video perché lo uso e sono molto contenta di usarlo perché posso mettere tutti i panni colorati anche bianchi possono se capita un qualche e vi faccio un esempio mino ha dei boxer bianchi li metto lì e non si scoloriscono e tipo acchiappa colore cioè ha quella funzione di acchiappare i colori senza acchiappa colore tipo quello in più fa i colori non sono non si rovinano anzi questo non vi dico i prezzi perché delle offerte perché questo non è un video promozionale non non lo faccio per vendere nulla non voglio vendere nulla però se vi serve vi va qualcosa andate su facebook scrivete la pagina della dalmessi italia mi riuscirà anzi iscrivetevi perché così noi le ragazze che lavorano mi sa che devi metterlo sotto carica sì finisco il video e lo metterò sotto carica un attimo mi non fammi parlare che stavo dicendo così viene vista molto di più e ci sono anche scusate poi c'è lo skill lo skill serve per pavimenti per le tapparelle per qualunque cosa è un profumo che è buonissimo poi la seconda offerta c'è l'optima che serve per questa e dopo sole infatti per questo questo colore e per il dopo sole serve per quando si brucia il sole quando quando ti bruci i biscotti quando anche per tante cose insieme a questo gel bagno schiuma doccia è buonissimo ha un profumo dei solari buonissimo buonissimo veramente lo so che mi vuoi sempre abbracciare che questo è il profumo speriamo che non e tu che sei molto pronunciata da fare il profumo non sono io non lo posso aprire perché perché è per mia mamma questo e questo pure e stop ho finito di parlare se volete ancora sapere ancora di più contattatemi in privato su facebook e su instagram e dove sono scritti su facebook sono colomba mammolente e anche su instagram non vi ripeto questo video è soltanto per farvi vedere quello che io ho preso a un'altra cosa poi poi l'azienda mi ha dato questa bellissima maglia questa maglia e questa maglia scusate ma io ho dovuto andare a prendere altri prodotti e questi sono gli altri non sono in offerta questi ma mi servivano e questo per i vetri con i vetri con panno e microfibra quindi e gli specchi lucentissimi proprio poi lo stile inox e dell'acciaio oh ha infatti io lo se vedete uso sempre questo perché mi piace moltissimo poi questo qua per la stoviglie è ottimo e sgrassa a fondo tutti i piatti e le tutto mi piace poi poi il ultra che era tanto che non lo prendevo e questo è per i bianchi i bianchi per i bianchi per i panni bianchi poi questa qua questa io l'ho presa a meno perché quando andiamo al campeggio come si chiama mino in turismo e perché andiamo anche in piscina così l'ho lo pro tempo dei primi raggi solari se prima non andiamo a mare però è ma mi sa che il mare con questo tempo non lo vediamo poi basta non non ce ne sono altri adesso metterò tutto a posto e insieme a voi vorrei pulire la cucina però non so se riesco perché devo cambiare di posto e non non so se mino mi lascia la possibilità va bene tra poco metto tutto a posto dopo ragazze ritraggo quelle che ho detto o stasera la farò da sola la cucina perché mi non vuole camminare e quindi non riesco vi però la la polizia della cucina serale un'altra volta e così la farò con calma altra sera mino ha bisogno dello stagio sufficiente per camminare ci vediamo alla prossima e vi auguro un grandissimo grandissimo riposo e buona serata tutte le mie folle guerra ciao ciao